e dunque deve lasciare il suo posto a Giulia Dragoni che fa il suo ingresso al minuto 18 la ex giocatrice sempre continuerà in questi giorni ad essere molto ampia molto finale di tutte le nostre nazionali in un mese di aprile in cui vitteremo continuamente compagnia Dragoni, il primo pallone della partita è indirizzato su Renzotti che cerca spazio centralmente ancora Dragoni tocco laterale verso Arrigoni comunque l'Italia è già costretta dopo onda con Sorelli Dragoni in incontro al pallone per cercare di alzare il ritmo di aumentare la velocità e di andare dentro come prova a fare Dragoni che allarga il giro più largo pur di arrivare poi nelle migliori condizioni possibili a quel punto sì per cercargli uno contro uno o addirittura di confusione con la Grecia che prova a gestirla con Tarzano la riconquistata a cercare il movimento di una compagna viene in incontro ai Dragoni con cui scambia nel campo facendo correre il pallone la squadra di Salina Mazzantini Dragoni alza la testa grande la sventaglia cambio con Costupò Luca arriva al limite dell'area prova a girarsi viene fermata ancora grande break da parte di Dragoni che impatto sul match da parte di Cibovina attaccata l'Italia che non la butta via e di nuovo la ferma a Zappettini ancora Ghiannica raddoppiata facilmente molto in fretta palla Dragoni prova tra le linee a inventare qualcosa il suo movimento altro cross della Peruta non ci arriva non è finita Tazzer testa alta porta palla col suo mancino gelimento dentro ancora per Dragoni che vince un rimpallo poi Sese non interviene Trevisan si aprono subito i nostri due esterni bassi Zappettini da una parte a Regoni dall'altra mentre la palla che continua a circolare in zona più centrale con Dragoni che finta il passaggio e poi di nuovo torna all'indietro da Sorelli Italia sul doppio vantaggio Vercelli in rete di Fatner su calcio di rigore al minuto 21 però doppio al 35 apparentemente Tatti che ha preferito sostituire prima dell'intervallo il numero 16 Zaruccia con il numero 17 Marco Sorelli gire come mezzali Dragoni perdono non Fatner ecco Dragoni Fatner che invece si apre sulla sinistra la sua zona di competenza Poloni che arriva invece verso Zappettini da questa ancora su Dragoni movimento della peruta pallone che non arriva per questione di centimetri la destinazione Dragoni prova a ributtarsi dentro poi strada Sorelli nostro regista arretrato a conti fatti pallone che viene raccolto la pallone già immediatamente a ridosso dell'area di rigore della Grecia ancora spazio per Dragoni che porta spasso palla la chiusura da parte di Sergiuli Sorelli ancora libera di avanzare palla al piede tocco questa volta corto su Dragoni si è staccata Bosnia Erzegovina per poi chiudere il suo girone martedì prossimo alle 14.30 di nuovo in questo stadio il Silvio Piola di Vercelli contro l'Austria che nel pomeriggio di oggi andrà proprio ad affrontare la Bosnia Erzegovina Renzotti la sua verticale si muove bene Dragoni che va a ritornare il pallone Schatzer Austria che a dire il vero sta per concludere la sua partita scesa in campo prima andrebbero a braccetto a quota tre punti con i medesimi cifre con la medesima differenza Dragoni cerca l'iniziativa personale Dragoni ancora porta palla poi pallone Dragoni Stavolta Schatzer per toccare all'indietro verso Ferrara Dragoni ancora una volta a tirare un paio di avversari verso di sé prima di andare all'indietro da Rigoni Dragoni ancora per laterale del Parma di nuovo richiamo verso Zappettini per alzarsi per dare ampiezza per creare ulteriori possibilità alternative di passaggio sempre Dragoni in condiera Dragoni ancora Italia ancora pallone aperto su Dragoni che può anche andare a cercare uno contro uno sfonda Dragoni rientra la giocatrice del Barca mentre finale sull'altro campo dunque l'Austria che esordisce in questo girone 6 con la vittoria per 2 a 0 sulla Bosnia-Herzegovina si parte dal comando del gruppo e dunque questo è il parametro e il riferimento il più 2 della Maria Grazia Petrara attaccante della Roma fuori un difensore dentro un attaccante e direi che il messaggio il segnale dato dalla nostra allenatrice Serena Mazzantini è abbastanza chiaro l'Italia deve continuare ad attaccare l'Italia che deve cercare di segnare altri gol a livello UEFA in caso di arrivo a pari punti il primo parametro che viene giudicato tenuto a noi è la nostra avversaria di martedì di rigore messo fuori da Papa Ioanno di nuovo nella disponibilità però di Fatner si ferma Dragoni Giravolta doppia giravolta poi rilarga verso Barzotti ancora cross dentro la chiusura la parte di Beu di nuovo Dragoni torna sulla palla senza fallo lascia sul posto anche un avversario Dragoni ci prova Renzotti può rilargare Petrara 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 sinistro sotto la traversa il gol è di Giulia Dragoni che trova dunque il tris al minuto 68 per trovare questo gol Renzotti a lunga giocatrice del Barcellone fortunata nel primo rimpallo poi grande condizione di palla e sinistro potente dall'alto verso il basso che non dà spazio a griva ad agire come esterno basso a destra dopo l'uscita di Arrigoni dei suoi collaboratori Dragoni sugli altri due gol quelli della Peruta e quello di Dragoni anzi evitando pochi minuti prima anche sul colpo di testa l'avvicinato di Della Peruta una capitalazione che poteva arrivare con le Dragoni invitati torna centralmente da Ferrara da questi a Dragoni stava attaccando mentre anche mister Papacostas prova a chiamare un pressing un po' più aggressivo da parte della sua Grecia per cercare di non concederci Fatner per Schatzer ferma il pallone per Dragoni ancora Italia che ci prova con la centrocampista degli appaio di avversari col suo movimento Schatzer ancora per Dragoni sempre in possesso di palla di nuovo a suggerire su Renzotti può andare anche in uno contro uno e rimane vicino a Dragoni e allora Italia che torna ad andare giocate vanno vinte a prescindere da quelli che sono i valori teorici l'Italia oggi va a salvare questa volta su Munezif non sarà stata perfetta nella circostanza che ha portato a rigore poi trasformato da Fatini Arrigoni Ferrara Cesarini Schatzer la stessa Fatner abbia già preso parte ad un Europender Fatner può andare dentro osea 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 Grazie a tutti.